Tempo di saldi, continuano gli sconti in città ed è corsa all'affare anche se il maltempo di questi giorni è frenato gli acquisti. Nella morsa del gelo, Trapani e il suo Interland continuano ad essere flagellate dalle raffiche di Maestrale, disagi sul lungomare Dante Lighieri invaso dalla sabbia. Il bilancio delle Ega di concluse ieri le manifestazioni natalizie, Favignana, Marettimo e Levanzo hanno registrato un buon afflusso di turisti. Ritorna a Best of the Year e da lunedì parte la seconda edizione che vuole far scegliere la figura più rappresentativa del nostro territorio per l'anno appena trascorso. 8, le candidature individuate dalla nostra emittente per il 2016, li potrete votare sul nostro sito internet e la nostra pagina Facebook. E per lo sport, prima vittoria del 2017, la Palacanestro Trapani conquista i primi due punti dell'anno a Rieti, finisce 76-80, il Trapani Calcio lavora sul mercato. Buongiorno e benvenuti al TG Sud, questi erano i nostri titoli, dopo la pubblicità come sempre tutte le notizie e gli approfondimenti. Tempo di saldi anche a Trapani, questa mattina abbiamo fatto visita ai negozi per tracciare un primo bilancio. Continuano i saldi in città ed è caccia all'affare, anche se il gelo di questi giorni ha frenato la corsa di acquisti. I commercianti tuttavia sono soddisfatti e già tracciano un primo bilancio. Bene, stanno andando davvero bene e almeno quello che ci aspettavamo si sta avverando. La clientela è molto contenta della nostra qualità, del nostro prezzo e sicuramente anche del servizio che riusciamo a dare. Invece durante le festività natalizie gli acquisti come sono andati? Bene, bene. Sicuramente appunto a parte la qualità del nostro prodotto, del nostro stile, diciamo che si è svolto abbastanza bene il lavoro. Quest'anno sì, si sta lavorando ma si sente un attimino la crisi che si sta abbattendo, si è abbattuta da anni nel nostro paese. È il primo anno che stiamo risentendo un pochino della crisi, ma diciamo che si muovono i saldi. Siete fiduciosi? Sì, siamo sicuramente fiduciosi e lo dobbiamo essere. È un lavoro che si può fare solo se hai fiducia nella tua attività e in quello che proponi. Invece durante le festività natalizie come sono andati gli affari? Sì, sono andati bene. Natale è sempre comunque Natale. Certo, diciamo che la città era anche un po' spenta e questo un pochino ci danneggia secondo me. Saldi ancora in sordina ma sei fiduciosa per i prossimi giorni? Sì, sicuramente comunque il tempo non ci ha aiutato in questi giorni per colpa di questo freddo, però comunque sono fiduciosa. La gente sarà più invogliata sicuramente nelle belle giornate ad uscire e a spendere, di conseguenza. Soddisfatti anche i clienti che grazie alla stagione degli sconti possono accaparrarsi l'agoniato capo di abbigliamento. A caccia dell'affare approfittando degli sconti? Sì, sì. Hai già tocchiato qualcosa? Sì, questo paio di pantaloni che mi piacciono. Forse li prendo. Hai scelto qualcosa? Sì, già ho comprato prima. C'è sempre da prendere qualcosina. Con gli sconti conviene? Con gli sconti, sì, molto. Ha trovato quello che cercava? No, ancora no. Diciamo che ci sono tante offerte quindi conviene. In questo periodo è conveniente fare acquisto? Sì, sì, molto. Sconti reali? Sì, diciamo di sì, abbastanza. Buona spesa. Grazie. Un'altra giornata di gelo a Trapani nel suo interlande disagi, soprattutto nelle isole Egadi, ancora sprovviste di collegamenti. Trapani continua ad essere nella morsa del gelo. Ecco come si presentava questa mattina il lungomare Dante Alighieri. La sabbia, spazzata via dalle forti raffiche di vento, ha invaso la carreggiata mettendo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada. Un tratto della litoranea, quella prospicente, l'isola ecologica, è stato chiuso al traffico in attesa dell'intervento degli operai chiamati a liberare il manto dalla sabbia. Frattanto proseguono senza soluzione di continuità gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale per liberare le strade costruite dagli alberi abbattuti dal vento e per rimuovere le insegne pericolanti. Ancora sospesi i collegamenti con le isole minori. E a proposito di isole minori parliamo delle Ega, delle iniziative natalizie e di fine anno che avevano preso il via il 17 dicembre con l'apertura del villaggio di Babbo Natale in piazza Matrice a Favignana e con diversi momenti di condivisione a Marettimo e a Levanzo si sono concluse ieri. Il maltempo di questi giorni non ha impedito lo svolgersi del programma che in linea con il cartellone originario ieri ha visto protagonista a Favignana la Befana che al centro sociale i fenomeni a partire dalle 15 ha animato il pomeriggio con la consegna delle calze con dolci e caramelle ai bambini mentre a Marettimo alle 17.30 all'oratorio parrocchiale per tutti è stata prevista una tombola, degustazione di cannoli e il sorteggio finale della barchetta di Natale. Le festività hanno consentito agli abitanti dell'isola di Marettimo, dice Vito Vaccaro dell'associazione CSRT Marettimo, di trascorrere dei momenti di vera comunità malgrado le avverse condizioni meteomarine e il freddo che non ha scoraggiato chi è uscito di casa per raggiungere i locali dell'oratorio. La buona riuscita delle iniziative si deve all'organizzazione della CSRT con la collaborazione della parrocchia Maria Santissima delle Grazie e con il contributo del comune di Favignana, Isole Egadi e dell'area marina protetta. Un grazie lo rivolgo anche all'associazione di Favignana con cui sono state organizzate le iniziative per i bambini di Marettimo. Sull'isola in tanti hanno collaborato per rendere le festività più gradevoli valorizzando le tradizioni spesso dimenticate. Soddisfatti anche i rappresentanti delle organizzazioni favignanesi Excursion, Gym e l'associazione bandistica Nuova Vincenzo Bellini che già nei giorni scorsi, tracciando un primo bilancio, avevano espresso l'intenzione di impegnarsi ancora di più per il prossimo anno per offrire ancora alle famiglie dell'isola e ai bambini delle festività ricche di eventi. Il 15 gennaio alle 16.30 si terrà l'Open Day all'Istituto per l'Enogastronomia all'ospitalità Alberghiera Ignazio Vincenzo Florio di Erice nella sede di Via Barresi a Casa Santa. In quell'occasione, così come già verificatosi lo scorso 18 dicembre, nella sede di Palazzo Sales saranno presentati gli indirizzi di studio e il piano dell'offerta formativa a genitori e futuri alunni per farsi conoscere e scegliere in vista dell'anno scolastico 2017-2018. E da lunedì sarà Best of 2016, il servizio. Sono otto le candidature che la nostra emittente ha scelto. Certamente ci sono state tante persone che nell'anno appena trascorso, o comunque nel corso degli anni, si sono distinte nelle rispettive professioni oppure nella vita sociale di questo territorio. Ma un po' per gioco, un po' perché lo pensiamo davvero, abbiamo individuato otto candidature. Quattro donne, tre uomini e un meticcio, il cane Leo. Ebbene sì, anche lui merita di essere annoverato fra i Best of 2016, per la sua toccante storia che, partita da Femignana, rilanciata in anteprima dalla nostra emittente, è rimbalzata sulla stampa di tutta Italia. Due anni fa era stato il marsalese Ignazio Boschetto ad aggiudicarsi la prima edizione. Il tenorino del Volo era alle porte del Festival di Sanremo, dove poi ha trionfato vincendolo. Questa volta, oltre a Leo, ci saranno quattro donne a contendersi il podio più alto. Sempre da Marsala, Anna Grassenlino, scienziata che negli Stati Uniti sta tenendo alto il vessillo della Trinacria. La trapanese Veronica Floreno, che da arciera azzurro ha rappresentato l'Italia nelle due scorse Olimpiadi di Rio de Janeiro e Londra. Ed ancora, Sor Cecilia. Originaria di Caltagirone, per decine di generazioni trapanese d'occo, per gli oltre 50 anni a servizio della comunità, nella sua Caritas, da cui è andata forzatamente in pensione alla veneranda età di 80 anni compiuti pochi mesi fa. Infine, fra le donne, il magistrato Alessandra Camassa, che ha coronato lo scorso maggio la sua lunga e brillante carriera, iniziata con Paolo Borsellino alla procura di Marsala, ritornandoci diventando la nuova presidente del Tribunale libetano. Gli uomini sono tre. L'arte è ben rappresentata con l'attore trapanese Marcello Mazzarella, che abbiamo apprezzato sugli schermi Rai in questi mesi, nello spot di un noto amaro dove affiancava, niente po' di meno che, la star hollywoodiana, Emni Garcia, altro tassello di cui andare orgoglioso nella sua già luminosa carriera. E Giaca. L'artista di padre Marsalese, madre trapanese, ma ha trepiantato da anni a Firenze, sta iniziando in queste settimane il suo nuovo disco. Il suono dell'isola, si chiamerà. Il nome è da solo già tutto un programma per il legame con la nostra terra. Infine, Cersei Cosmi. L'ex mister Granata è stato su un otto volante nel 2016, una promozione spiorata e poi l'esonero. Ed in mezzo di tutto e di più. Insomma, certamente il tecnico perugino è stato fra i personaggi dello scorso anno. Quindi, tutte eccellenze paid in Sicily o comunque figure molto legate all'isola. Il vostro voto, completamente gratuito, potrà essere espresso da lunedì e per una sola volta sulle nostre piattaforme web, su teresud3.com e sulla nostra pagina ufficiale Facebook. L'ultimo giorno utile per sancire il Best of 2016 sarà venerdì 28 gennaio. L'Associazione Camperisti Air Camp Sicilia Occidentale, appena rientrata dal raduno di fine anno, vuole estendere a tutta la cittadinanza trapanese la benedizione di Papa Francesco, ricevuta durante l'udienza dello scorso 28 dicembre. Il gruppo camperisti ha portato in omaggio al Santo Padre una preziosa riproduzione artigianale della Madonna di Trapani in corallo e argento, realizzata dal noto mastro corallaio Graffeo. Durante l'udienza Papa Francesco ha lanciato il suo messaggio mai perdere la speranza. La speranza non delude anche quando non ti è rimasto altro che guardare le stelle. Cambiamo argomento. Verso le elezioni, quest'anno tanta carne al fuoco in vista delle amministrative di primavera ed in particolare ci focalizziamo sui comuni di Trapani e Derice dove già da qualche mese la campagna elettorale partita e le polemiche o i colpi di scena non sono mancati. A Telesud vi racconteremo tutto di settimana in settimana dando voce ai protagonisti della vita politica locale ma anche a voi, cittadini e spettatori. Come? Con una nuova trasmissione intitolata De Politicom che oggi iniziamo a presentarvi affidandone le prime delucidazioni al collega Nicola Baldarotta. Vediamo. Ben trovati. L'ultima volta che ho condotto una trasmissione a Telesud era il 2007. 2017 quest'anno, dopo dieci anni, ho il piacere di ritornare a condurre qualcosa qui a Telesud infatti esco però dalla redazione dove i ragazzi stanno lavorando per il telegiornale e mi occuperò di una nuova trasmissione politica perché arriviamo quest'anno ad avere tantissime elezioni amministrative in provincia di Trapani in particolare due i più grossi centri almeno quelli più vicini al capologo il capologo stesso e il comune di Erice dove, come sapete, è tutto in fermento. Facciamo proprio una breve analisi della situazione trapanese abbiamo una certezza, quantomeno definita se non definitiva è che la candidatura al sindaco di Trapani di Pietro Savona accompagnato dal Partito Democratico ma anche da altre liste civiche che appunto lo sosterranno questo per quanto riguarda il centrosinistra in centrodestra invece in ambito centrodestra c'è un po' più di confusione un'altra cosa definita ma anche se lì dobbiamo usare un po' il condizionale dovrebbe essere quella legata alla ricandidatura dell'ex sindaco di Trapani attuale deputato regionale appunto all'Arsa e cioè l'ex sindaco appunto Mimmo Fazio sapete che lui è intenzionato a rimettersi a disposizione dei cittadini trapanesi ma c'è una spada di Damocle che sarebbe questa presunta incompatibilità sulla quale nei mesi prossimi scopriremo chi avrà ragione se quelli che dicono che lui non deve essere candidato al sindaco di Trapani perché faranno leva appunto su questa presunta incompatibilità quindi incandidabilità oppure lui stesso Fazio e i suoi amici si dice che abbia già tre liste pronte Fazio che invece sostengono che il problema non si vorrà e quindi lui potrà essere candidato in ambito del centro-destra nei prossimi giorni probabilmente nelle prossime settimane si dovrebbe svelare un altro arcano quello legato alla candidatura sindaco di Trapani del senatore Antonio Dalì lui lo sapete se seguite le croniche politiche locali ha questa ambizione da un bel po' di tempo pare che adesso sia veramente intenzionato a spendersi per il territorio si è stancato di delegare altri per conto suo vuole provarci da solo ma lo capiremo e lo scopriremo veramente nelle prossime settimane poi rimanendo sul cavoloco sempre dovrebbe esserci qualche altra candidatura si dice una candidatura a sindaco da parte del movimento città a misura Duomo che fa riferimento al blogger Natale Salvo ma si dice anche da qualche settimana circola questa voce sempre più insistente che vedrebbe una probabile ricandidatura dell'attuale sindaco di Trapani Vito Damiano anche se lui ufficialmente non ha fatto che smentire e dire che proprio si è stancato di avere a che fare con la politica trapanese però sappiate che nelle stanze segrete negli ambienti particolari del capologo questa probabile ricandidatura prende consistenza sempre più poi aspettiamo tutti la candidatura del candidato sindaco appunto del movimento 5SR lo hanno detto ufficialmente tra marzo ed aprile loro usciranno fuori con il loro candidato sindaco e con la lista che supporterà questa candidatura sia su Trapani che su Erice ad Erice la situazione anche se sembra un po' più definita è ancora in divenire facciamo una breve analisi abbiamo diverse candidature la Cettina Montato con il suo movimento Nati Liberi che sta correndo veramente in maniera dirompente direi e si trova il suo nome ovunque nel territorio ricino da San Giuliano dove è la loro base principale ma anche nel quartiere di Mocarta e così via un po' in tutto il territorio ricino poi c'è la candidatura dei socialisti in particolare del dottor Luigi Nacci anche lui partendo qualche mese addietro adesso si ritrova un po' più in vantaggio almeno per questa breve mia analisi che riesco a fare da giornalista rispetto agli altri candidati nell'alvio di centro-sinistra centro-sinistra non possiamo non nominare le primarie del Partito Democratico sono in tre a contendersere in un ordine di estrazione la Daniela Toscano attuale vice sindaco di Giacomo Tranchita la collega assessore Laura Montanti e il professore Francesco Todaro il 22 gennaio ci sideranno le primarie chi verrà fuori fra questi tre sarà il candidato sindaco ufficiale del Partito Democratico anche se c'è da capire cosa faranno i Tranchidiani legati appunto all'attuale sindaco di Erice pare che non siano intenzionati ad appoggiare nessun'altra candidatura al di fuori di quella della Daniela Toscano per cui anche lì c'è da capire cosa succederà dal 22 di gennaio in poi ad Erice abbiamo anche la candidatura di Maurizio Sinatra lui rimane in silenzio lo dice e lo nega lo afferma e poi lo smentisce però sappiamo che anche con l'aiuto dell'amico nuovo presidente provinciale di Sicilia Futura Livio Dedone Maurizio Sinatra sta lavorando seriamente sta cercando di capire se può avere un appoggio ufficiale anche da pezzi del centro-destra in particolare quello del senatore Dalì che a Erice almeno alla data di oggi quindi Forza Italia non ha nessuno da candidare ma magari nelle prossime settimane nei prossimi mesi scopriremo che invece c'è un nominativo a disposizione poi ci sono anche lì ad Erice i 5 Stelle prima le idee loro dicono stanno lavorando sui programmi e non fanno minimamente riferimento a nessun nome anche se i nomi circolano loro stanno lavorando sul programma sulle cose da fare sia su Trapani che su Erice scopriremo a breve cosa stanno cercando di fare insomma come potete capire la situazione fra Trapani ed Erice è assolutamente in divenire è tutto da confermare è tutto da analizzare ecco perché a Telesud da fine gennaio in collaborazione con il giornale il locale news noi ci occuperemo di farvi capire cosa succede nel mondo della politica in riferimento all'amministrativo e lo faremo attraverso questo strumento tecnologico avanzatissimo che è un touchscreen lo avrete visto in chissà quante altre televisioni nazionali e internazionali noi attraverso questo strumento con una nuova trasmissione che si chiama De Politico da fine gennaio ogni settimana proveremo a farvi entrare dentro la politica viva di Trapani di Erice e del resto del territorio provinciale non dovete far altro che seguire il telegiornale di Telesud e nei prossimi giorni scoprirete quando realmente partiamo con la trasmissione e vi spiegheremo come questo strumento vi consentirà anche di interagire con noi e di essere protagonisti a vostra volta della vita politica locale a presto spazio allo sport cominciamo con il basket prima vittoria dell'anno in trasferta per la palacanestro Trapani battuta Rieti finisce 76 a 80 quando si dice cominciare bene il 2017 dopo la vittoria ad Agropoli di fine anno i Granata Bissano a distanza di pochi giorni a Rieti all'andata era stata una bellissima vittoria sullo scadere e anche ieri la suspense non è mancata una via eccellente per la palacanestro Trapani che chiude il primo quarto realizzando 24 punti 13 dei quali segnati da Scott e 7 da Mace il secondo quarto non subisce variazioni e i Granata vanno a riposo lungo sopra di 9 punti poi qualcosa cambia e nel terzo periodo la luce si spegne e i ragazzi di coach Ducarello vanno in difficoltà permettendo alla squadra di casa di rientrare e di passare anche in vantaggio la partita si decide in un ultimo quarto combattutissimo Rieti paga i falli dei suoi lunghi l'asse play pivot Mace Renzi funziona e i nervi rimangono saldi soprattutto nell'ultimo minuto quando si decide la gara quando i due punti vanno a Trapani nelle prime due frazioni abbiamo cavalcato l'onda di Scott che era in stato di grazia nella terza frazione abbiamo subito molto la verve di Rieti che ci ha messo seriamente in difficoltà ma nel finale abbiamo avuto la lucidità di servire a Renzi sotto le plance riuscendo così a conquistare i due punti questo il commento di coach Ducarello al termine della gara da domani in preparazione la sfida casalinga di domenica 15 gennaio contro l'Eurobasket Roma andiamo a vedere allora i risultati di questa sedicesima giornata del campionato di A2 Ovest Reggio Calabria batte Agropoli in casa 81 a 62 Eurobasket prossima avversaria dei Granata batte Ferentino 78 a 72 Latina Sieno 86 a 61 Rieti Trapani 76 a 80 Grigento Virtus Roma 95 a 83 Scafati Treviglio 82 a 87 Legnano Tortona 69 a 80 Casale Monferrato Biella 75 a 66 in classifica sempre Biella in vetta quota 62 punti seguita da Legnano e Grigento che di punti ne hanno 20 Trapani e Tortona 18 Treviglio Virtus Roma Latina d'Eurobasket Roma quota 16 Siena Casale Ferentino 14 Reggio Calabria Rieti 12 Agropoli 10 Chiude Scafati a 8 punti Adesso invece passiamo al calcio Riprendono domani gli allenamenti del Trapani Intanto continua in mercato e spuntano altri nomi ed altre trattative Trattative che si rinforzano altre che prendono corpo Si parla di Petkovic Per l'attaccante si erano fatte vive due squadre tedesche ma niente di concreto Sembra invece avere un fondamento la trattativa che vorrebbe il Bari interessato al numero 10 Granata Per lui sarebbe disposto a cedere al Trapani la zanzara Giuseppe De Luca classe 91 più un milione di euro Altro nodo da sciogliere a centrocampo con la possibile partenza di Matteo Scozzarella voluto dal Novara sarà importante vedere che tipo di fisionamia dovrà prendere Data quasi perfatta la trattativa che porterebbe in Granata il centrocampista Fausto Rossi Scuola Juventus attualmente svincolato Mister Calori lo ritroverebbe dopo l'esperienza di Brescia Insomma continuano i movimenti per il Trapani continuano le speranze E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Tele Sud questa sera alle 19.40 alle 22.40 andrei in onda il nostro magazine e con questo è tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana e vi ringrazio per averci seguito Grazie a tutti.